Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi faccio vedere cosa c'è dentro il mio cronchetto. Come potete vedere il mio cronchetto è rosa, poi c'è il manico che è grigio, che si porta a mano così, poi questo è la chiusura, così a prestitore, e poi ho già il mio nome. Ora apriamo i commenti. Questo è per un piano dove si va a risolvere, poi vi faccio vedere i tracciai, poi ho scritto i tappi e i sepori, blu, giallo, rosa e bianco. Poi faccio delle targhette che stavano dentro la mia cronchetta. Poi adesso faccio vedere le mie spazzole. Per me è rifatto. Prima di tutto a cavallo si usa la striglia, che è questa, che per pulire si usa per i movimenti circolari. Poi la brusca grande per il corpo. Poi la brusca piccola per il muso. Poi la spazzola per la cignara a coda. Poi questo serve per levare la sabbia fuori dallo zaccolo. E infine nel tecchio di spazzola. Tu fai così, levi tutta la sporcizia e lo spazzolo si leva tutto. Ora vi faccio vedere le mie sinchiare e le mie paramocche. Ora le mie sinchiare le comprate l'Orso Show all'Irlanda. Guardate come sono bellissime. Sono all'Equic con il gel. Guardate. Sono bellissime. Ora vi faccio vedere come si apre. Bisogna fare tirare così. Poi tirare sempre e mettere il bottone qua. Ora vi faccio vedere anche le paramocche quelle che si mettono dietro. Eccole. Sono queste. Infatti dietro c'è lo stretch dove puoi aprire e chiudere. Adesso vi faccio vedere come si ordina bene il kit. Allora. Qua c'è il tipo di spazzola che è già in ordine. Poi la brusca. Il bruscone. Poi il pin. La spazzola. Questa. 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 sono bellissime. OK. Allora. Mi piace un sacco, questi bracciali. Aspetta. Eccole. Ok. 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 Allora. Se vi è piaciuto a questo video mettete un pulizzo. iscrivetevi al canale e guardatevi altri video ciao